A Piero Iacomoni la parola. Grazie, grazie Presidente. Io parlo una mezz'oretta per dirvi un'esperienza. Quello che ha detto la Presidente sono belle cose, però è un'esperienza di una vita di un ex giovane come voi che era a scuola, non ero fra i migliori e non sono mai stato un fenomeno a scuola, posso confermarlo oggi perché è la verità. Però nella vita ho cercato di fare l'imprenditore. L'imprenditore voleva dire, quando ero giovane come voi, fare una cosa che a me piacesse e vi dico che a 70 anni mi sento contento di aver trascorso una vita in questo modo perché ho fatto quello che ho voluto. L'idea di cominciare Monnalisa è nata quando alla vostra età, 4-5 anni dopo la vostra età, ho cominciato a girare un po' l'Europa in autostop, mi sono fermato a Parigi, parlo 5 lingue in qualche modo, però mi intendo in 5 lingue tutte quelle europee. Ho visto che c'era un'opera d'arte fantastica a Louvre che era la Gioconda e io mi sembrava di buttarmi via la vita perché allora facevo ribelle come tutti i giovani hanno voglia di fare una cosa nuova. Ho visto quest'opera d'arte e mi sono accorto che buttavo via la vita. Allora sono tornato a casa, ho cominciato a vendere libri, a fare le assicurazioni e poi andai a fare il tecnico in una fabbrica di confezioni che non avevo mai visto, diventai il dirigente in poco tempo perché allora non c'era grande professionalità. E insomma mi sono messo per conto mio, ho fatto la Mona Lisa di Piero Giacomoni, è nata così nel 68 e quindi sono 45 anni che faccio di una idea un modo di vita e questo credo che sia una delle più belle cose che posso raccontare. Mi piace, mi piace poterlo dire perché i giovani che hanno un domani, un futuro bisogna che pensino anche a quello che fare e di molte volte c'è l'incertezza, non è che si nasce saputi direi, però fare una cosa in cui uno è convinto che la cosa è giusta e è quella secondo me la più bella manifestazione di vita che uno possa fare. Cioè muoio tranquillo, muoio contento, quando dico che la morte è possibile, quando tocca tocca, basta che mi tocchi dopo, quando viene viene, però l'ho vissuta momento per momento, cioè dire mi piace questo momento, domani farò un metteressa, questo momento è il più bello della mia vita perché è quello che voglio fare. Mi piacerebbe avere un contatto con voi per dire l'esperienza che ho fatto perché quella a voi manca e a me piacerebbe forse essere giovane come voi, quindi ognuno ha qualcosa in bilancia e questo io secondo me fa crescere un popolo, fa crescere colui che guarda avanti, colui che guarda un po' lontano. Nell'azienda che io rappresento ci sono 136 persone oggi, ieri ero solo e ho cominciato da solo e ho portato questa azienda a questo livello nella provincia d'Arezzo, ancora la Mona Lisa me lo sento di dover dire non ha usato un'ora di cassa integrazione. La cassa integrazione è un sistema che il governo riconosce alle aziende in difficoltà e quindi quando capita c'è questo ombrello che aiuta le aziende per mettere i lavoratori con lo stipendio e non lavorano. Io ancora mi sento grande perché non l'ho mai usata questo ombrello, perché ho cercato di fare sempre con le mie forze, cercando di fare bene e guardando lontano. Questa parte io credo che sia quella più sociale, poi sentirete qualcos'altro sul sociale. Sociale vuol dire noi, siamo una società, una parte di società in una bella sala di una scuola dove si cerca di fare l'Italia. Sembra una bischierata ma noi si cerca di fare l'Italia. Quest'Italia che se sentite alla televisione è sempre bistrattata o ci rubano o ci fanno o ci dicono, dipende da noi. Io sono convinto che la mia Italia l'ho costruita con le mie mani, sono contento anche di farmi rubare, non mi frega niente, perché quello che faccio è più forte di quello che mi danno. E se nasce questo concetto forse si può crescere perché oggi siamo uno, siamo 60, 60 concetti che si illuminano diventa una cosa fantastica. Io credo che con questa aziendina che fa abiti da bambini fino a 12-13 anni esportiamo in tutto il mondo, noi si esporta in Cina, da dove la gente compra perché costa poco la merce, noi si vende a prezzi 10 volte più cari dei loro. Però si vende un brand, si vende un nome, si vende quello che l'Italia è capace di dare, cioè la forza che l'Italia ha dentro è racchiusa in un nome. Un nome che ho cercato con lunghi e con denti, guarda, mi sarebbe sapere dei bracci perché non so un parlatore, però lo sento quello che vi dico, no? Ho fatto un brand che è riconosciuto alto, è riconosciuto importante. Forse qualche mamma vostra ha vestito Mona Lisa, perché? Perché ho cercato di fare un prodotto di qualità e andando in giro e vendere roba che il cinese ti vende a 5 euro, io lo vendo a 200, bisogna che abbia un contenuto dentro. Ma non è contenuto perché so furbo e aumento 195, il fatto è che dentro quel 195 c'è una cultura, c'è una volontà di far bene, c'è una volontà di non, in italiano lo so, ma svigliaccare il prodotto, di mettere male il prodotto che hai e farlo grande. Questo io credo che sia uno dei principi per cui ho sempre lottato. Perché ve lo dico? Perché mi piace, perché mi sembra che non sia facile, perché non esisteva al mio tempo, esistevano sì ancora le grandi marche, i Gucci, Prada è alla mia età il titolare, quindi ha fatto una strada grandissima, ma non ci sono stati tanti che hanno guardato al brand. Al brand sarebbe il marchio, invece oggi si vende, l'Italia si deve vendere come marchio. Quando dite alla gente vengono a prendere il sole, possono andare a fare le ferie sia in Spagna, sia in Italia, sia in Grecia, ma l'Italia ha un'altra cosa. L'Italia ha delle opere d'arte che sono la metà delle opere d'arte del mondo. Noi dentro noi, compreso la ragazza che vedo col velo laggiù, abbiamo qualcosa da dare, abbiamo un periodo che si chiamava rinascimento, che ognuno di noi ha nel DNA. E' questo che dobbiamo vendere, o perlomeno ho cercato di vendere, ho cercato di trasmettere. E questo mi gusta, mi piace, mi dà l'idea che sia la parte giusta da dire ai giovani che si devono preparare per la vita. E non sono mai stato tra i più bravi, mi dispiace, però lo voglio dire perché mi piacerebbe dare fiducia al ceppo, a quello più indietro, perché io ero un ceppo a scuola, perché non mi illuminavano. I professori erano più ceppi di me, mi avevano messo da parte, ma tanto questo non capisce niente. E io non ero considerato fra i migliori. Mi piacerebbe, forse sono anche morti, lo so ora, ma mi piacerebbe fargli vedere che qualcosa il ceppo potrebbe fare. Ceppo si dice, in Toscana no? Quello è un po' duro. Io ero un po' duro, a scuola non ci andavo mai, avevo due libretti dell'assenza e facevo bene la firma della mia mamma e del mio padre. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Ragazzi, alcuni come me, alcuni amici miei sono finiti male perché hanno preso strade sbagliate e oggi non si trovano bene. Quindi è sempre una scelta che dobbiamo fare, una scelta che costa, sicuro, a tutti. Anche a me è costata. Però ho scelto una cosa che è stata mia. Altri non lo possono dire, sono miei amici che io oggi gli do una mano. È un pagliativo perché passare una vita e essere dipendente di un altro che ti allunga non è bello. Non è bello. Quindi è una scelta che i giovani devono fare. Quindi questa è la fotografia di un'azienda dove si vive bene perché la forza della Mona Lisa credo sia nelle 136 persone. Prima facevo l'ufficio HR, si dice in inglese, l'ufficio personale, quello che prende le persone, che assume le persone. Prima lo guidavo io. Le 136 persone che ho assunto, ma fa conto in tutti questi anni ne avrò visti, mille delle 136. Io sono contento di tutte le 136. Dal direttore generale alla ragazza che fa le pulizie. e sono contento perché sento che loro hanno una marcia in più rispetto al loro collega di un'altra azienda. Non ho assenteismo. Lo sapete che vuol dire l'assenteismo? L'assenteismo nell'azienda è quello che sballa ogni cosa. È come se a un orologio non gli metti una rotella. Perché? Perché quella manca e allora altre due o tre rotelle rimangono ferme. Ecco, io l'assenteismo ce l'ho basso. Diciamo basso perché i numeri non li so. Perché vengono volentieri a scuola. I miei colleghi mi dicono, certo, da te non si fa niente, vengo sì. Va bene, può anche darsi. Però l'azienda va bene. L'azienda guadagna. L'azienda è in crescita. In questi anni, in questi anni in cui l'abbigliamento, le confezioni sono in crisi, noi ancora si migliora. Ancora si cresce. Quindi vuol dire che qualcosa di giusto c'è. È in queste 136 persone che collaborano tutte insieme. Allora io mi moltiplico a 136. Troppo bello. Troppo bello. Questo è una... Dice, ma perché? Lo possono fare tutti? Perché non è possibile. Certo che bisogna capirsi. Dentro la Mona Lisa, se fa due volte la settimana in ginnastica posturale, viene una professoressa che fa... Sai, davanti al computer, avete pigliato il mal de collo, queste cose così. Viene due volte la settimana, c'è un'ora alla settimana che ti aiuta a vincere un po' qualche osso che è invecchiato. Oppure ci sono tre ristoranti dove l'azienda paga un pasto. Cioè un piatto, acqua e caffè. Poi dicevo, il primo, il secondo, il terzo, te li paghi. Perché io ti offro un piatto a tavola per un'ora di intervallo. Chi arriva da più lontano, perché vengono anche dalla provincia d'Arezzo, hanno un riconoscimento per la benzina. Dicevo, ma buono che sei? No, io faccio perché vengono a lavorare. Io non sono buono, io faccio l'imprenditore. Voglio bene alla mia gente, forse loro quando passano mi mettono l'ombrello qui. Pazienza, pazienza, non ha importanza. L'importante è donare. Sapete voi, no, l'amore? L'amore è donare. Poi, se ricevi meglio, se non ricevi, se divorzia. Pazienza. Non è mica detto che ci indovini tutto. Però il bello è donare. E quando la gente viene a lavorare, e ti viene a lavorare contenta, hai già fatto bingo. Hai già fatto bingo. Questo giovedì mi hanno chiamato alla Bocconia a parlare della Mona Lisa e ho fatto un intervento a Milano. E per le scale, siccome non sono un parlatore, mi sta sudando le mani davvero, perché non mi riesce. Però ce la metto tutta, lo stesso. Per le scale, c'ho una scala grande a ciocciola per arrivare alla direzione. C'era una ragazza albanese che sono tre mesi, quattro, che è a lavorare nell'azienda. E mentre pulivo, buongiorno, ho fatto. E lei alza la testa e mi fa, ci faccia fare una bella figura. Lei sapeva che io andavo alla Bocconi e si sentiva parte dell'organizzazione. Io gli ho detto, ma ci pensi? Porca miseria, questa è parte di me. Questa è contenta se io, un lasvigliacco, se faccio bella figura. Lei è contenta. Questo vuol dire fare gruppo. Questo vuol dire essere un'azienda. E questo io credo che sia il vantaggio o la motivazione, se qualcuno mi domandasse perché la Mona Lisa va bene, io direi perché ho 136 persone giuste. Che magari quello ruba, quell'altro io non lo so. Io so quello che è la visione grande della cosa. Cioè dove gente viene a lavorare contenta, io spedisco contento, io ho ricavi dall'azienda stessa perché loro mi danno una mano. Quest'anno abbiamo dato per la undicesima volta un premio, oltre lo stipendio, c'è un premio diviso per reparti, secondo il reparto che ha raggiunto le specifiche che si erano proposte di fare. Un piccolo premio c'è per tutti perché fino a 250 euro l'anno non ci sono tasse. Allora compriamo boni di benzina, che la macchina ce l'ha tutti, e diamo 250 euro a tutti. Però la differenza del premio viene data in base ai risultati dell'azienda. Se ognuno è interessato a mandare il tassello suo, il reparto dove lavora, deve farlo meglio. Oppure se c'è quello che non lavora, quell'altro gli fa, dice ma ti rendi conto che me rubi a me? Questa l'ho sentita dall'azienda, questo è bello. Cioè non c'è il padrone, come una volta si diceva, io ho fatto anche il padrone, ma avevo il cane e basta. Allora quando facevo il padrone si dice come avevo il cane. Però il concetto è questo, che ognuno lavora anche per sé e quindi porta risultati. Questo mi sembra bello. L'11.1.2011, per uno che ha fatto l'azienda come me, che ha iniziato da solo e ha fatto una creatura per 44 anni, l'11.1.2011 alle 11 ho invitato tutti, tutti i collaboratori nell'ingresso e ho detto che smettevo. Era fa due anni che lo diceva tutti, non ci credeva nessuno. Nessuno ci credeva. L'11.1.2011 alle 11 c'era chi piangeva, chi rideva, meno male se ne va, ognuno aveva la sua reazione. Ma l'11.1.2011 faccio il presidente perché la proprietà è la mia, però io non sono più operativo. Faccio il presidente del border, cioè del consiglio di amministrazione, ma c'è un direttore generale che manda avanti le strategie. E io mi mangio le mani perché io farei in un altro modo, sicuramente farei in un altro modo, come ho fatto nel mio modo tutta la vita. Però se pensi al domani, non è che ti pigli un coccolone e dopo rimango lì, ma ora che si fa? Se te ti metti da parte e lasci a qualcuno la dirigenza, puoi dire, se te lo domanda, anche come vanno le cose. O come faresti? E questo io credo che sia la bellezza perché dal 2011 a oggi siamo ancora in crescita. Come ci fossero Iacomoni. Lo racconto come un gioco, ma credetemi, è una bellissima esperienza di vita che mi piace dire ai giovani. Magari voi, ve schifisco, siete belli e stanchi, non vi frega niente, però avete sentito anche questa. Di uno che non ha studiato un granché, però nella vita ha fatto quello che voleva fare. E quello che voglio fare è servire 47 paesi nel mondo. Si esportano dei prodotti che la mamma può fare in casa con la macchina da cucire, perché vendo prodotti da bambini, ma che ognuno può cucire da sé, in 47 paesi del mondo. E questo mi piace dirlo, mi piace, mi sembra che sia una bella cosa, una bella esperienza.